Radio Radicale, siamo con Emiliano Arrigo che ha scritto per la casa editrice storica un libro sul terrorismo dal titolo Il coraggio tra le mani, storia degli invisibili che hanno sconfitto le Brigate Rosse, libro scritto con Enzo Magri e che si avvale della prefazione del generale Mario Mori. Si tratta di un libro atipico sul terrorismo in quanto lei si occupa delle sezioni speciali anticrimine che tra il 1978 e il 1979, questo è l'anno più importante per queste sezioni, hanno operato agli ordini del generale dalla Chiesa. La storia di queste sezioni è rimasta sconosciuta ai più, perché noi come abbiamo notato in occasione del dibattito del suo libro voi avete ricordato che a parlare e a scrivere la storia del terrorismo sono stati in qualche modo gli stessi terroristi. Allora, come nasce questo libro Emiliano Arrigo? Allora, questo libro nasce un paio di anni fa, quando il mio amico Enzo Magri venne da me per chiedermi aiuto per scrivere un libro sugli operativi dell'arma dei carabinieri, su coloro che hanno combattuto le Brigate Rosse le hanno combattute e le hanno sconfitte. Fino ad oggi i libri sono stati scritti sulle Brigate Rosse, sono stati scritti dai magistrati, sono stati scritti dai giornalisti sono stati scritti anche dai vertici delle forze di polizia, mai nessuno aveva scritto un libro guardando le Brigate Rosse da un punto di vista degli operativi della sezione speciale antifibile quella sezione speciale è voluta dal generale Carlo Alberto dalla Chiesa e comandato dall'ora maggiore Mario Mori. Ecco, noi abbiamo provato a dare un taglio diverso a un pezzo di storia della nostra nazione. Ecco, avete raccolto le testimonianze del generale Mori oppure diciamo per fare questo tipo di ricerca avete attinto anche a una documentazione scritta da qualche archivio? No, no, allora il generale Mori è stato molto gentile e si è prestato a scrivere per noi la prefazione di questo libro. Nel libro si parla di varie operazioni svolte dalla sezione speciale anticrimine di Roma grazie al racconto di Enzo Magriche, nome di Battaglia Nero, lui era un operativo dell'arma dei Carabinieri e diciamo che con la sua memoria storica più una parte documentata attraverso ricerche alla biblioteca nazionale e alcuni ritagli di giornale che aveva lui, il tutto ha portato a questo libro insomma.